Postazione del 118 di Venafro, garantire la presenza del medico anche di notte attraverso turni straordinari del personale di Venafro integrato con quello proveniente da altre postazioni. È la proposta illustrata ieri dal Comitato Santissimo Rosario al Direttore Generale Asrem Giovanni Di Santo verso la quale ci sarebbe già stata un'apertura. I medici del 118 di Venafro, preventivamente interpellati, avrebbero dato la loro disponibilità. Sono solo due medici, abbiamo detto va bene, temporaneamente li fate fare un po' di straordinarie se sono disponibili e io ho contattato questi medici e sono disponibili a coprire dei turni magari con l'aiuto anche di altri medici di altre postazioni del 118 e loro sono disponibili poi se dovesse rimanere qualche turno temporaneamente scoperto di notte vabbè temporaneamente ci facciamo così, insomma facciamo in questo modo però vogliamo assolutamente, abbiamo chiesto che ci sia questa postazione perché a Venafro non c'è niente, non ci sono altri medici che possano supplire a questa emergenza. Ne convince il Comitato la proposta Asrem degli specialisti sulle automediche con tutte le postazioni del 118 demedicalizzate. Ma vedi questa è una soluzione che ci sembra una soluzione fasulla proprio ma non solo per la nostra postazione, per tutte le postazioni. Un medico arriva prima l'infermiere, poi chiamano il medico che deve andare quindi altro tempo che si perde perché per il paziente magari in una fase, una condizione critica e quindi è un fatto negativo per l'assistenza, per l'emergenza. Ma noi diciamo ma scusatemi ma se voi non fate il corso che avete previsto che era stato già previsto dal passato dal direttore generale precedente se non fate i corsi come volete pretendere che ci siano dei medici in più seppure ci saranno e poi comunque noi diciamo vuol dire che c'è un motivo se i medici non vogliono venire e allora risolvete i motivi, risolvetele in un altro modo pagandoli di più, facendo l'assunzione di questi medici presso il pronto soccorso e poi pagare i dislocati anche nell'emergenza territoriale.